Siamo credo qui a interrogarci su questo, io non ho una risposta netta, credo che dipenda molto dai casi. Nei casi migliori, laddove l'operazione viene condotta in modo sensato ma anche per certi versi spregiudicato, può essere interessante nello stimolare una curiosità e credo che le migliori serie facciano esattamente questo. Credo che sia un buon interlocutore per lo spettatore, cioè che lo debba essere, nei casi migliori lo è, è un confronto, un modo per proseguire nella riflessione. Da un lato mi sentirei di suggerire quella di cui ho parlato, che è The Crown. Però credo che se ci fosse uno studente, credo questo in realtà non sia possibile, che non ha mai visto una serie televisiva, gli suggerirei di vedere Mad Men, perché credo che sia una serie molto interessante per molti motivi e una serie che ha, come dire, fortemente orientato e determinato gli andamenti successivi della serialità. E quindi forse prima vedere Mad Men e poi magari dopo potrebbero vedere, per esempio, The Crown. Io ho cercato di capire perché una serie così apparentemente tradizionale nei temi e nelle modalità narrative come The Crown, che racconta il regno di Elisabetta, quali siano gli elementi che di fatto attirano, possono attirare l'attività dello spettatore. E mi sono chiesta se oltre al... cioè come la perizia filologica, che è una caratteristica della serie, in realtà stimoli una curiosità, una curiosità morbosa verso qualcosa che assomiglia un po' alla curiosità che abbiamo verso la miniatura, verso le case delle bambole, verso i trenini, i modellini. C'è qualcosa per cui la grande storia diventa piccola e ci porta dentro, ci porta a stimolare la nostra curiosità ad entrare dentro, per esempio, Buckingham Palace.